segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ferenti ha detto ovviamente la meloni ci sono altrimenti saremmo la stessa cosa cosa non vi piace di questa manovra poi entriamo ovviamente nella partita reddito di cittadinanza che è una delle cose che è una delle cose piacere non perché segnala un approccio verso il tema della povertà e della difficoltà che quello sbagliato in una fase di grande difficoltà invece per il paese dove servono strumenti per affrontare la povertà e per affrontare il tema dell'arrivare a fine mese che riguarda ormai una parte sempre più ampia del dei nostri cittadini e che quantomeno da settembre in poi non avranno nessuno strumento io quello che sto dicendo è che al di là di posizioni diverse la presidente meloni ha detto una cosa ovvia no ci sono visioni diverse poi qualcuno vince le elezioni governa qualcuno le perde e fa l'opposizione nell'alternanza democratica è giusto che sia così è giusto che il centrodestra che ha vinto le elezioni si accetti la sfida del del governo che non è una sfida facile soprattutto in questo momento per le contingenze di un paese in difficoltà e di un mondo in difficoltà quindi ci misureremo sulle cose ma sicuramente si crea un problema enorme perché la misura e la modifica reddito di cittadinanza così come prevista che verrà per i primi otto mesi lascia un buco enorme da fino al primo gennaio 2024 quando dicono faremo un nuovo strumento di sostegno al reddito ma chi ha perso il lavoro oggi che è un operaio non specializzato di 50 anni non credo che nei prossimi otto mesi troverà un lavoro e dal primo ottobre del 2023 non avrà nessun sostegno da parte dello Stato perché non è previsto nessun tipo di sostegno quindi dovrà andare alla caritas e dovrà vivere sotto i ponti perché questo è lo scenario quindi è comprensibile che una forza politica che in questo momento un enorme consenso elettorale che ha vinto le elezioni porti avanti le sue idee sul come affrontare il tema della povertà che sono totalmente diverse le nostre che noi contrasteremo però lo deve fare dando alcune garanzie credo che ci sia si è creato l'esodato del reddito di cittadinanza perché dopo i primi otto mesi ci saranno persone che non hanno nessun tipo di sostegno al reddito dopo di che questo è uno degli elementi che non ci piace di una manovra che è assolutamente restrittiva che riporta il paese al tempo delle austerity che non ha una visione che non fa nulla per le imprese non c'è niente per le imprese italiane in termini di capacità di investimento si smantella non nella manovra ma nell'aiuti quater il super bonus nella conferenza stampa giorgia meloni dice una cosa gravissima dice che c'è un buco di 40 miliardi nei conti nelle casse dello stato e dove sta dove stanno le coperture di questo buco di 40 miliardi che si è creato con super bonus perché io non ho visto traccia di una copertura di 40 miliardi nelle casse dello stato in legge di bilancio per colpa del super bonus allora o ha detto una bugia o ci deve dire come li ha coperti quei 40 miliardi perché non li ho trovati da nessuna parte non c'è una posta 40 miliardi in più per il super bonus non c'è una visione non c'è non ci sono strumenti di investimento per le imprese si depotenzi a transizione 4.0 che non sono bonus a pioggia sono gli accompagna e l'accompagnamento dell'investimento dell'impresa in in 4.0 e quindi in nuove tecnologie che fanno aumentare la produttività del nostro sistema industriale credo che sia i tempi della manovra saranno brevi perché non ma non non c'è nessun tipo di responsabilità da parte del governo si è votato il 25 settembre è ovvio che i tempi sono ristretti e anche le opposizioni sa non hanno nessuna intenzione di portare in esercizio provvitorio il paese quindi collaboreranno perché si arriva l'approvazione della della legge di bilancio entro il il 31 dicembre questa non c'è nessuna responsabilità e non ci aspettavamo neanche non poteva essere questa la legge di bilancio in cui la maggioranza esprimeva tutta la sua come posso dire visione complessiva del paese perché è stata costituita io però vedo lavoro ho visto la volontà e percepibile la volontà di mettere alcune bandierine di ciò che si è detto in campagna elettorale dal reddito di cittadinanza il tema ovviamente del questo è abbastanza normale purtroppo purtroppo è abbastanza normale sia così ma ci preoccupa il fatto che non si sviluppa una manovra con una dotazione economica maggiore cosa che sarebbe stato possibile facendo una manovra espansiva per accompagnare un paese che in grande difficoltà e che se è vero che ha un problema di sostenibilità del reddito e quindi un rischio fare un nuovo debito io credo che sia molto più rischioso molto più rischioso rischiare di perdere intere filiere produttive intere settori produttivi perché non si aiutano in questa fase così complicata critico una complessiva proprio su tutto ovviamente a cominciare dal reddito di cittadinanza insomma non credevo che il